Nessuna lesione sul corpo di Salvo Cultrera. Questi risultati dell'autopsia. Probabilmente la morte si è verificata il giorno stesso della scomparsa del giovane giarratanese. La casa dei diritti. A sinistra Ragusa avvia una raccolta firme da presentare al sindaco Piccitto. Oltre ai sensi, seminario dedicato alla tematica del turismo accessibile e all'eliminazione delle barriere architettoniche e culturali. L'autopsia sulla salva del giovane Salvo Cultrera è stata eseguita ieri nel primo pomeriggio presso l'obitorio dell'ospedale Paterno Arezio da parte del medico legale dottor Coco, incaricato dal pubblico ministero dottor Gaetano Scollo, qua adiuvato da ufficiali di polizia giudiziaria, della polizia di stato e dei carabinieri. Dell'accertamento tecnico irripetibile era stata data notizia ai familiari e ai tre indagati, i due ragusani e il giarratanese, iscritti dal lunedì nel registro degli indagati per diversi reati, tra gli altri quello di stigazione al suicidio. Il cadavere era stato trovato appeso a una ringhiera in un anfratto dietro l'abside della chiesa di Sant'Antonio Abbata Giarratana e probabilmente si trovava in quel posto dalla prima sera della scomparsa del ragazzo, venerdì 23 maggio. Sebbene domenica, il giorno del ritrovamento, fossero girate presunte indiscrezioni su lesioni o echimosi sul cadavere, oggi al termine dell'autopsia il consulente del pubblico ministero ha potuto affermare che non ci siano lesioni o fratture sul corpo del desunto, il che fugherebbe ogni dubbio su eventuali percorse che evidentemente non ci sono state. Nel frattempo, polizie e carabinieri continuano l'opera di raccolta di informazioni sulla vicenda, al fine di approfondire la conoscenza dei fatti e fare luce sui dettagli. L'ipotesi di reato formulata, infatti, necessita di grande attenzione da parte degli investigatori nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, il cui comportamento o atteggiamento potrebbero aver istillato, corroborato in Salvatore l'idea di porre fine alla propria vita. La Casa dei Diritti, uno spazio di ascolto dei problemi della cittadinanza. A sinistra, Ragusa, ha avviato una raccolta firme da presentare al sindaco Federico Piccitto. Il primo maggio è partita la petizione popolare esensi dell'articolo 8,3 dello Statuto Comunale per chiedere al sindaco e all'amministrazione di assegnare degli spazi a tutte le associazioni che si occupano di diritti in tutte le declinazioni possibili. I promotori dell'iniziativa, oltre al gruppo di cui faccio parte, sono Amnesty, Agedo, Libera, Coordinamento studentesco, Generazione Zero e l'associazione di migranti uniti senza frontiere. Noi chiediamo al sindaco e all'amministrazione che venga assegnato uno spazio unico a tutte quelle associazioni e gruppi che si occupano in tutte le declinazioni possibili di diritti. Abbiamo lanciato anche un appello a tutte le altre associazioni che si occupano, pure loro ognuno per il suo campo, di diritti di sostenere effettivamente questa nostra petizione. Nei giorni scorsi c'è stata adesione importantissima di un sindacato e stiamo parlando della CGL e all'interno della CGL in particolar modo la FLC che sarebbe la federazione dei lavoratori della conoscenza. Oltre ai sensi, un seminario in materia di turismo accessibile. Questo è il tema del convegno dedicato soprattutto agli operatori del settore turistico. L'incontro è servito ad aprire un confronto tra esperienze dirette in Europa, in Italia e nella Val di Noto. Si tratta di un momento importante per la nostra città perché rendere i nostri luoghi storici e culturali accessibili a tutti i nostri cittadini e ai turisti in visita nella nostra città è sicuramente una priorità. Quindi andiamo in questa direzione, siamo determinati a consentire a tutti i cittadini di poter accedere liberamente al nostro patrimonio culturale, alle bellezze della nostra città e quindi saremo sicuramente un'amministrazione pronta a definire gli interventi necessari perché tutti possono accedere liberamente al nostro patrimonio senza distinzioni, senza limiti legati a disabilità o aspetti di questo tipo. Riteniamo che una città accessibile sia assolutamente l'obiettivo di Ragusa e quindi di questa amministrazione. Oggi sono molto contenta per essere qui a questo convegno importante sul turismo accessibile dove finalmente si parlerà del turismo accessibile negli Iblei. Io sono anche qui a nome del comitato del turismo accessibile del Ministero del Turismo quindi porterò infatti i saluti anche del Presidente e di tutte le novità che ci sono sul turismo accessibile. Finalmente parleremo di fatti concreti e di una nuova visione del turismo per tutti. Vengo qua e convengo a presentare la mia proposizione sulla accessibilità generale nel contesto europeo e internazionale per dire sulle ambizioni sociali che portano queste istituzioni internazionali e vorrei portare un paio di idee su come si potrebbe risolvere il problema di accessibilità. Come però? Come comodità generale. L'accessibilità come comodità generale. I due seminari che abbiamo organizzato per oggi e domani sono legati tutte e due alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Quello di oggi rappresenta un primo passo importantissimo che riguarda il turismo accessibile, ovvero il turismo legato alla partecipazione inclusiva di qualsiasi soggetto fisico esistente che spazia dalla persona normale al disabile intellettivo, al disabile fisico, al bambino, all'anziano, alla persona con bisogni di tipo alimentare, alla persona con pacemaker e così via dicendo. È una iniziativa che mira non solo ad incrementare il turismo in periodo extra stagionale, ma soprattutto mira ad evidenziare le potenzialità del nostro territorio che possono essere sfruttate in maniera ottimale, tenuto conto che l'amministrazione comunale ha anche intenzione di spendersi nel settore dell'accessibilità. Per quanto riguarda questo seminario, oggi analizzeremo in maniera abbastanza dettagliata tutto il percorso relativo al turismo accessibile, che appunto sarà portato avanti anche da parecchi esperti. Avremo degli esperti che vengono sia dalla Valdichiana che da Napoli, dall'Unione Italiana Cica di Napoli, che soprattutto dall'Austria, l'architetto Josef Offmarker, il quale parlerà appunto non solo del turismo accessibile in Europa, ma parlerà in modo fondamentale del turismo ecosostenibile. Quindi questa sarà la prima manifestazione, mi auguro, di una lunga serie che riguarda appunto il miglioramento della qualità della vita di tutti quanti, anche perché laddove si riesce a migliorare la qualità dell'offerta turistica, naturalmente si migliora la qualità della vita della nostra città. L'efficienza e la crescita dell'autotrasporto in provincia di Ragusa richiedono un aggiornamento a un confronto permanenti sulle norme e sui problemi del settore, poiché l'applicazione di regole condivise e la chiarezza dei rapporti con gli organi di controllo consentono alle imprese di operare esticacemente su un piano di parità concorrenziale. È per questo che Confindustria e Polizia Stradale di Ragusa hanno promosso il seminario tecnico-pratico su autotrasporto, sicurezza e legalità, rivolto a tutti gli operatori del trasporto che vuole dare risposte ai problemi di gestione quotidiana delle imprese, in collaborazione questa volta con la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Dogane e l'Ispettorato del Lavoro. L'incontro, svoltosi il 4 giugno presso Confindustria Ragusa, è stato, per coloro che hanno partecipato, un'occasione preziosa per avere la possibilità di recepire indicazioni univoche ed esporre dubbi e quesiti operativi che chiarifichino i controlli della Polizia Stradale, la fiscalità di comparto, il rimborso delle quote di accisa e la stipula e gestione dei contratti di lavoro di settore. Presentato nella sede del Movimento in Difesa del Cittadino di Ragusa, il progetto Consapevolmente, finanziato nell'ambito del Programma Generale di Intervento della Regione Sicilia. Oggi nella sede del Movimento Difesa del Cittadino siamo qui per presentare il progetto di impegno sociale consapevolmente, è un progetto che è teso alla creazione appunto della consapevolezza all'interno dei giovani di quelli che sono gli effetti dell'alcol e della droga. Abbiamo scelto di fare questo tipo di intervento sul territorio perché ci rendiamo conto che sensibilizzare i giovani, i nostri giovani ad un utilizzo appunto consapevole o al rifiuto di alcuni elementi come l'alcol o la droga nello specifico è di fondamentale importanza per una crescita sana e diciamo consapevole appunto di quello che è l'attività di cittadino. Per quanto riguarda il progetto stavo dicendo che il Movimento Difesa del Cittadino è capofila per quanto riguarda tutta la Regione, è finanziato appunto nell'ambito del programma regionale 2013-2014 della Regione Sicilia e in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico. È un'attività sociale che il Movimento sente molto forte e che la sede di Ragusa grazie alla collaborazione di validi esperti e professionisti del settore sta mettendo in campo appunto per cercare di ovviare a quelle che sono le purtroppo tristi stragi del sabato sera. È un'attività che il Movimento ha sempre privilegiato nel passato con altri progetti tipo Brindiamo o altro e che ritengo sia opportuno continuare nel filone che fino ad oggi è stato fin qui seguito. Il progetto Consapevolmente è un progetto che vede impegnate le scuole di tutta la Regione Siciliana, è un progetto finanziato dalla Regione Siciliana, dal gruppo Sesto. Nasce da un intenso lavoro che dura circa sei anni, iniziando col progetto BrindolaVita. L'indagine è stata volta proprio ai ragazzi dell'età che andava dai 13 ai 17 anni. Dalle indagini si è visto appunto che i ragazzi cominciavano a bere a una tenere età anche inferiore ai 13 anni, per cui il progetto l'abbiamo rivolto a un'età inferiore, quindi abbiamo iniziato dai 10 fino ai 18. Il progetto prevede quindi una sensibilizzazione per i temi che riguardano l'uso e l'abuso dell'alcol, l'alimentazione e l'utilizzo corretto di internet. Cerchiamo di dare una giusta informazione, una giusta sensibilizzazione ai nostri ragazzi perché siano dei cittadini consapevoli del domani. Premiati i vincitori del concorso Pasquarte. Alla cerimonia, svoltasi nell'Aula Consigliare del Comune di Ragusa, sono intervenuti gli artisti che hanno partecipato all'iniziativa realizzando le varie decorazioni delle uove di Pasqua che sono state esposte nel centro storico del capoluogo dal 12 al 28 aprile scorsi. Oggi si conclude il progetto Pasquarte, siamo arrivati appunto alla giornata finale dove finalmente assegneremo il premio all'uovo di Pasqua vincitore di questa prima edizione. È stato un'occasione, un impegno che l'amministrazione ha voluto portare avanti anche su spinta dei commercianti di Ragusa Superiore per portare l'arte fuori, fuori dai palazzi, per strada, e far fruire i visitatori in maniera diversa di quello che può essere il normale circuito di fruizione delle opere d'arte. Come appunto succede anche in molte altre città d'Italia e anche d'Europa, parliamo dei musei a cielo aperto che sono pochissimi, credo che siano nove in tutto il mondo. Non ci possiamo certo mettere a livello di un museo a cielo aperto però questa era l'intenzione, trasformare per un periodo dell'anno, che è anche un periodo in cui la gente ha piacere particolarmente ad uscire perché ci sono appunto gli avvenimenti pasquali, trasformare la città in un happening di appuntamenti artistici a cielo aperto e quindi è un'occasione in più per fruire quello che è il nostro centro storico, in questo caso Ragusa Superiore. Oggi daremo il premio, un premio simbolico, un assegno di 300 euro come avevamo promesso. Il progetto è stato interamente curato da Simone Mazzone Editore che ha appunto coadiuvato le varie proposte dei commercianti di Ragusa Superiore e poi ci siamo coordinati noi con l'amministrazione. Hanno partecipato tantissime scuole ma non solo, hanno partecipato anche architetti, liceo artistico, l'Accademia delle Belle Arti, quindi insomma anche dei professionisti.